Un ponte aereo con la Somalia per distribuire aiuti alla popolazione prostrata dalla siccità. Dal vertice FAO di Roma arriva una prima risposta del programma alimentare mondiale alla carestia nel corno d'Africa. L'equivalente di circa 400 milioni di euro sarà stanziato dalla Banca Mondiale, che chiede però l'introduzione di nuove soluzioni agricole. Oggi avremo modo di parlare di agricoltura a lungo termine, ma abbiamo anche bisogno di una risposta davvero urgente. I bambini stanno morendo in questo momento in Africa orientale e hanno bisogno di assistenza. A Bakul e Shebel, nel sud del paese, la malnutrizione acuta colpisce oltre il 30% della popolazione. Una vera e propria città della disperazione è il campo di Dabab, che raccoglie 380 mila profughi in fuga dalla carestia. 90 bambini muoiono ogni mese e il tasso di mortalità raggiunge picchi dell'86%. Nelle aree maggiormente colpite, appena il 20% della popolazione ha accesso all'acqua potabile e un bambino su 9 muore prima di compiere un anno di vita.